Anche la compagnia aerea tedesca Lufthansa si prepara a tagli più drastici alla forza lavoro globale e alla flotta aerea rispetto a quanto pianificato in precedenza, in concomitanza della mancata ripresa del traffico aereo. Per l'amministratore delegato dell'azienda Karsten Spohr, che ha parlato ai dipendenti, la quarantena in tutto il mondo ha avuto un effetto catastrofico sulle prenotazioni, che per ottobre si attestano a meno del 10% rispetto ai livelli di un anno fa. La compagnia, che aveva già previsto il taglio di 22.000 posti di lavoro e ha usufruito di un salvataggio governativo di 9 miliardi di euro all'inizio di giugno, prevede ora che una ripresa del traffico aereo sia rindiata a metà decennio. E se Lufthansa piange, British Airways di certo non ride. Il piano di licenziare l'equipaggio di cabina e può riassumerlo a condizioni inferiori e fuori discussione, dice con poca convinzione l'amministratore delegato Alex Cruz. Previsti tagli agli stipendi e sino a 13.000 posti di lavoro.